Diabeta e nefropatia sono stati al centro di un interessante incontro con la stampa svoltosi a Roma che ha riunito alcuni dei massimi esperti nazionali. Ne abbiamo parlato con il professor Agostino Consoli, ordinario di endocrinologia all'Università di Chieti e Pescara, per farci raccontare i cardini della terapia, anche alla luce di alcune recenti novità. Professor Consoli, terapia del diabeta nel paziente nefropatico, quali sono gli elementi da considerare? Il paziente nefropatico è un paziente fragile per definizione, è un paziente che spesso ha comorbidità, è un paziente con alto rischio cardiovascolare, è un paziente più esposto degli altri all'ipoglicemia, il rischio è maggiore, è un paziente maggiormente esposto alle conseguenze negative dell'ipoglicemia, ai rischi dell'ipoglicemia. E perché è importante trattare precocemente il paziente tenendo conto anche del danno renale che eventualmente si è già instaurato? Trattare precocemente il diabetico è un must ed è una cosa che va fatta, come abbiamo imparato negli ultimi anni, da subito, da molto prima che si instauri per esempio la nefropatia. Una volta che la nefropatia è instaurata, i target diventano diversi, l'attensile focus della terapia è diverso e si sposta più a raggiungere un controllo accettabile senza provocare danno. Quindi la sicurezza dell'intervento terapeutico in questo caso ha il primo posto su ogni altra considerazione e a questo proposito le strategie terapeutiche si sono diversificate e si sono anche arricchite di molecole e formulazioni diverse negli ultimi anni. Ecco, se c'è una cosa che non manca, per fortuna parlando di diabete, sono i farmaci. Le classi ottonamenti disponibili sono 8, presto ce ne sarà una nuova e quindi diventeranno addirittura 9. Ecco, come fare professore tenendo conto di questo armamentario così vasto appunto per curare bene il paziente tenendo conto in particolare del rene nei casi in cui ci sia già una nefropatia. Proprio perché il momento è così vasto c'è stato un fiorire di linee guida di ogni genere e tipo recentemente, nessuno delle quali per fortuna imperativa o assoluta, perché come al solito è il paziente che è al centro della cura e lo sforzo va fatto per individualizzare il più possibile la terapia su quel paziente. A questo proposito, se parliamo di un paziente con problemi renali, dobbiamo di nuovo, prima di tutto, non colpire ancora di più il rene e secondo proteggere dall'ipoglicemia e dall'estito cardiovascolare. In questa ottica le molecole di generazione più recenti, in particolare le molecole vastate sulle incretine possono dare una mano. Gli analoghi del GLP-1 che sono gli iniettivi della classe ancora hanno, per mancanza di trialistica, limitazioni importanti per quello che riguarda l'uso nel diabetico nefropatico, al contrario invece gli inibitori di DPP4 stanno via via raggiungendo la prescrivibilità in questa classe di pazienti. Ci sono oramai un numero sufficiente di trial che fa sì che di queste molecole si possa fare impiego anche nei pazienti con limitazioni della funzione renale, in particolare per il sitaglipitin recentemente anche per pazienti con insufficienza renale grave, ovviamente cambiando le dosi. Per chiudere, che messaggio possiamo dare ai suoi colleghi medici, soprattutto al medico di famiglia che si trova giorno per giorno a confrontarsi con questo tipo di paziente? Diciamo che auspicabilmente il medico di famiglia specialmente si confronta col paziente prima che tutto questo succeda. Come dicevamo prima, noi dobbiamo sempre di più fare medicina di iniziativa e l'iniziativa in questo senso significa trattare a target i pazienti, in questo caso specialmente per quello che riguarda il controllo oppressorio e il controllo della glicemia, prima che la complicanza insorga. La miglior maniera di curare, forse l'unica maniera di curare la nefropatia diabetica e impedire che insorga. Una volta che è insorta, bisogna ovviamente modulare la strategia terapeutica in maniera da andare incontro alle nuove necessità, ai nuovi bisogni, ai nuovi problemi che il paziente presenta. Di nuovo, utilizzare farmaci sicuri, facili da usare, scegliere gli effetti collaterali che non danno ipoglicemia è sicuramente un gradino in più di quello che possiamo fare per i pazienti che sono in queste condizioni.